Ciao a tutti, sono Eglanzalone, ho 10 anni e frequento la scuola Lombardo Radice di Caltanissetta. Io quando leggo mi rilasso molto, ma soprattutto, leggendo, sviluppo la mia fantasia per affrontare momenti brutti o belli della mia vita. Oggi per voi ho scelto il libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando. E' un romanzo riguardante la mafia. I protagonisti sono un bambino e il suo pa. La storia narra che un papà racconta al suo figlio attraverso una gita il perché li fu scelto per lui proprio il nome Giovanni. Così entrano i momenti chiave di Giovanni Falcone. Il papà vuole fare capire al bambino che la mafia non è una cosa stratta, ma si trova anche a scuola ed è un mostro da combattere subito. Questo libro mi ha commosso, ma soprattutto mi ha insegnato a credere al sacrificio di ognuno per migliorare la vita sociale. E soprattutto che nella vita non bisogna sprecare nemmeno un attimo se si deve fare una cosa giusta o intelligente. In realtà questo libro me lo avevo consigliato mia sorella. In un primo momento ho pensato che non era un libro apposfatto per me, però dopo ho avuto una sensazione indescrivibile appena ho letto. Detto ciò io potrei leggere questo libro tante altre volte perché è un libro educativo e tocca molto al cuore. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.